Una tragedia si è consumata fra Toscana, Marche e Romagna sull'Appennino. L'allevatrice di cani Cristiana Gugu, 50enne romene, è stata trovata morta congelata nella neve. Secondo quanto si apprende, la donna viveva da sola in una casetta di legno in mezzo al bosco ed è stata uccisa da un malore causato molto probabilmente dal freddo. Cristina Gugu è stata trovata congelata a 5 km in linea d'aria dal paese più vicino Badia, Tedalda, una zona isolata in inverno ma molto frequentata in estate. Accanto a lei anche i corpi senza vita dei suoi tre cani.